Ben ritrovati di nuovo assieme, seconda parte con la nostra rassegna stampa, tra poco le prime pagine di quotidiani sportivi, gli approfondimenti legati all'Udinese e ci diamo il buongiorno anche con un verde di un campo di calcio che sbarca in centro storico in città. Buongiorno Monica, dove ti trovi? Cosa sta succedendo alle tue spalle? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti voi. Ci troviamo in via Rialto, proprio nel cuore di Udine, perché proseguono gli allestimenti in vista dell'avvio ormai prossimo della nuova edizione del campionato europeo di calcio Under 21. Dunque hai visto questa specie di moquette, questa riproduzione del campo che è stata allestita in quest'area, ma nelle scorse ore ovviamente si sono fatti altri preparativi. Nei giorni scorsi sono stati messi pannelli, striscioni stradali, attrezzati i bus, insomma sono già stati fatti tantissimi interventi, ma come vediamo si stanno completando in queste ultime ore gli allestimenti. Dunque c'è grandissima emozione nella città per questo evento sportivo importantissimo, anche dall'altissimo valore mediatico e turistico. Ricordiamo che saranno quattro le partite ospitate da Udine, dalla Dacia Arena, tre per le qualificazioni del Girone B e poi la finalissima del 30 giugno, sempre alla Dacia Arena. Dunque vedremo come proseguiranno anche nelle prossime ore gli ultimi preparativi. Intanto vedete appunto la via come si risveglia e poi anche la popolazione come guarda incuriosita comunque anche questo allestimento che è stato fatto da pochissime ore in questa zona. Per il momento a via Rialto è tutto, a voi la linea, ci rivediamo tra poco. Grazie, grazie alla nostra Monica e dunque si improvviseranno qualche partitella anche in centro città in vista proprio di questi europei. Europei che oggi guadagnano ampio spazio sui quotidiani, ma partiamo con le pagine nazionali, con la Gazzetta dello Sport che si occupa di mercato. Iguain Manolas si lavora sul clamoroso scambio, la Juve serve un centrale, il Pipita può sostituire Geco, così Icardi vede Torino, si chiede la Gazzetta. Di taglio alto Totti, shock, sta pensando di lasciare la Roma e poi Giampaolo, pranza con Maldini e Boban, mercato e UEFA nel menù del Milan. Un summit per far partire la stagione di Rossoneri, l'incontro per il futuro di Suso. Inter, Barella è questione di giorni e Conte allontana il Ninja, Naigolan, grandi manovre a centrocampo. Super Champions, no secco da tutte le leghe europee, la riunione del board si è tenuta a Zurigo. E poi la nazionale italiana femminile a Zurre vince le qualificarsi, questa sera alle 18 il Mondiale in Francia, la seconda gara per le ragazze della Bertolini contro la Giamaica, se si parla di cuore. Le mie ragazze sono le più forti. Dalla Gazzetta andiamo sul Corriere dello Sport che invece apre con Rabiot, parlo con la Juve. Beccato in vacanza a Porto Ercole, Adrian Rivela, il centrocampista mancino del PSG conferma la trattativa, è un grande club dove ognuno vorrebbe giocare. Sarri lo aspetta, ma dire l'ultima parola sarà la madre di Taglio Alto, invece Milan, sei colpi, la rivoluzione con Marco Giampaolo, Napoli, Albiol, nostalgia di casa. Il centrale tentato dal Villareal pronto a pagare la clausola di 4 milioni in Napoli su Manolas Totti in FIGC, questa la possibile svolta nella carriera dell'ex capitano della Roma. Hazard fa già il pieno in 45 mila al Bernabeu per la presentazione del fuoriclasse al Real, adesso tutti vogliono che prenda il numero 7. E poi di Taglio Basso, forza ragazze, fateci volare, mondiale alle 18 Italia-Giamaica con la vittoria ottavi quasi certi, l'Australia gela il Brasile 3-2. E poi questa è la prima pagina invece del Tutto Sport che ripropone proprio il tema di Rabiot. La Juve c'è, il centrocampista francese in vacanza all'Argentario ammette, il club bianco-nero è grande, stiamo trattando. A centro pagina, azzurre, vi vogliamo così, mondiale femminile, l'Italia affronta la Giamaica a Rams alle 18 per prenotare gli ottavi. La vittoria dell'Australia sulla Brasile non consente, passi falsi. Il CT Bertolini punta sulla bonansea decisiva al debutto con una doppietta da urlo. Sarri sì, via libera dal Chelsea, la chiave, la Juve pagherà un indennizzo legato ai risultati, oggi il possibile annuncio per l'accordo. E poi ancora a Eurotoro c'è ancora una speranza, Milan, Tass, UEFA e retroscena. E ancora tutto mercato, scatto Inter per Lazaro e Barella, passi avanti decisivi. E ancora l'Atalanta con il colpo Champions, Malinowski dal Gengt all'Atalanta. Questo è uno dei prossimi acquisti della formazione bergamasca. Andiamo ora sulle pagine dei quotidiani di casa nostra. Il messaggero Veneto, avevamo visto appunto lo spot per l'Europeo Under 21 già in prima e naturalmente anche la presentazione di Pierpaolo Marino. Partiamo proprio dagli Europeo Under 21. Il messaggero oggi dedica un inserto di molte pagine chiedendo agli azzurri di alzare la coppa, di giocarsi la finale proprio alla Dacia Arena. All'interno si possono trovare diverse interviste, diversi spunti di approfondimento. con l'intervista a Giraldino, prima un gruppo granitico, poi l'entusiasmo della gente, così si porta a casa il titolo. Il campione del mondo 2006 ha vinto l'Europeo nel 2004 con Gentile CT, chiesa con la testa al mercato, ma che mangerà l'erba per la maglia azzurra. Di taglio alto ci sono poi tutti gli appuntamenti con le sfide. L'Italia che debutta domenica a Bologna contro la Spagna all'ora 21 e poi lunedì le prime gare a Trieste e Udine, Serbia e Austria e Germania e Danimarca. Per il girone C invece si giocherà San Marino e Cesena con Romania, Croazia, Inghilterra e Francia. E poi il CT di Biagio che spiega, stiamo rilanciando il calcio. Questa è la possibile formazione titolare con Meret tra i pali, poi Pezzella, Mancini, Romagna e Agion Ponga in difesa. Zaniolo, Barella, Pellegrini a centrocampo, Chiesa, Cutrone e Orsolini in attacco. C'è anche un ricordo per quanto riguarda le vittorie del passato, la storia dell'Under 21. Si ricorda le 5 meraviglie dell'Italia con la Coppa. Nessuna squadra ha vinto così tanto, ma l'ultimo titolo è del 2004. Il Tris iniziale con Cesare Maldini tra il 92 e il 96 e poi le nazionali di Tardelli e Gentile. Lasciamo l'Under 21, ci fermiamo un istante per farci raccontare invece al Vice Ispettore Gabriele Travagin quali sono le condizioni della viabilità del traffico in città. Buongiorno dalla Sala Operativa della Polizia Locale. Buongiorno, al momento non ci sono problemi inerenti alla viabilità, si apprezza solo un aumento del traffico in piazzale Osoppo. Si segnala però che appena è accaduto un sinistro stradale con feriti tra Viale Palmanova e piazzale D'Annunzio in entrata, sostanzialmente sul cavalcavia Sant'Irmanco del Fortunato. Quindi in quel tratto lì bisogna prestare la massima prudenza e se possibile evitarlo, onde stare incolonnati per parecchio tempo. Comunque la nostra battuglia sta arrivando sul posto per i rilevi. Per quanto riguarda invece i lavori, abbiamo sempre i lavori per la realizzazione della rotonda in via Popone-Sigeardo-Attinis e il divieto di transito in via Aquileia, nel tratto tra via Gorghi e via Giusti per il faccimento della pavimentazione. Altre cose al momento non si apprezzano. Diciamo che il traffico è diminuito anche causa chiusura delle scuole notevolmente. Si vede anche dalle immagini che vi stiamo proponendo, grazie a Gabriele Travagin dalla sala operativa della Polizia Municipale che ci ha raccontato anche di quest'ultima ora l'incidente verificatosi sul cavalcavia ferroviario tra Piazzale D'Annunzio e Viale Palmanova. Naturalmente nel corso anche delle prossime edizioni vi forniremo eventuali ulteriori ragguagli su quanto è successo. Comunque fate attenzione se siete in transito nella zona. Torniamo alle pagine sportive. Parliamo di Udinese e del ritorno di Pierpaolo Marino. Ok, la scelta è giusta, i pozzo non sono cambiati. Hanno l'Udinese nel cuore, titola il Messaggero Veneto. Il nuovo responsabile dell'area tecnica è convinto di tornare agli antichi splendori. La proprietà ha ancora grandi ambizioni, in caso contrario non sarei tornato. E poi alcuni spunti. Lasagna, mi ricorda Muzzi, se non crede nei suoi mezzi allora è un pazzo. Uno come lui deve andare in doppia cifra. Tudor, lo avrei riconfermato anch'io, il primo obiettivo rimane la salvezza. Poi magari arriveremo nei primi dieci. Sono stati tanti, ieri lo ha raccontato proprio i nostri microfoni. Marino, coloro i quali si sono voluti congratulare con lui, tanti amici del passato, tra i primi Totò di Natale, Amoroso e Sensini. E vedete questa la foto di rito tra il presidente Franco Soldati e il direttore generale Franco Collavino. Ma andiamo ad ascoltare un passaggio dell'intervista di Marino, che si è concentrato molto, ha ringraziato parecchio i tifosi che il giorno stesso della firma del contratto hanno voluto anche dedicare uno striscione di bentornato. Sentiamo, Marino. Io ho visto che nei momenti di difficoltà lo stadio era pieno. Quando c'era da fare calcio spettacolo era magari meno pieno. Quindi che vuol dire? Che qui interessa l'Udinese come motivo di vita. E nel momento delle difficoltà l'Udinese si è sempre ritrovato il suo pubblico che gli ha dato spinta, gli ha dato fiducia. E ora noi dobbiamo portarlo sempre pieno questo stadio. Cioè dobbiamo averli sempre vicini, nelle difficoltà ma anche nelle gioie. Dobbiamo creare anche gioia. E quindi questo è l'obiettivo nel medio periodo. senza promettere nulla, però noi abbiamo il dovere di salvare ogni anno l'Udinese perché quello è il minimo che dobbiamo fare. Però dopo dobbiamo avere anche la capacità di creare un ambiente virtuoso in cui si può guardare anche avanti come facevamo nei tempi d'oro e autostimarci, avere ambizioni, guardare avanti e allo stesso tempo gioire qualche volta. Perché non possiamo sempre dilaniarci fra la colpa di questo e di quell'altro. No, no, no. E quindi io vengo con i muscoli, con l'entusiasmo, con la gioia per ripagare di tutta questa fiducia sia la famiglia Pozzo che l'ambiente. Voglio ringraziare particolarmente la Curva Nord perché mi dedicò un grandissimo striscione immenso quando tornai con il Napoli nel 2007 e non lo dimentico. E oggi mi ha fatto un altro striscione. Fra me e loro ci sarà amicizia eterna. Queste dunque le parole di Pierpaolo Marino che è stato salutato con entusiasmo proprio anche da Collavino e Soldati. Per noi è come ritrovare un maestro, hanno dichiarato il presidente del DG arrivarono all'Udinese infatti nel 1999 dove furono accolti proprio da Marino. Riabbracciamo un amico, un grande professionista. Nel frattempo, proprio nella pre-conferenza stampa è stato Collavino ad annunciare che entro la fine del mese sarà presentata la nuova campagna abbonamenti. Mentre sono state già fissate le date per il ritiro. Il 7 luglio la formazione con Mr. Tudor si ritroverà a Udine e poi effettueranno una serie di allenamenti e preparazioni proprio negli impianti del Bruseschi fino al 20. Poi il trasferimento a Sunfight in Austria per la seconda parte del ritiro fino al 2 agosto. In questa fascia ci saranno anche già le amichevoli che saranno annunciate poi nelle prossime settimane. Andiamo ad ascoltare proprio un passaggio di Collavino. Direttore Collavino, lei ha detto già ieri quando il direttore Marino ha firmato il contratto che l'Udinese, lei ritrova un amico. Penso che questo sia un'assicurazione, una polizza importante sulla bontà del lavoro trennale che si potrà svolgere con Pierpaolo Marino. Sì, assolutamente sì. Con Pierpaolo ci siamo salutati nel 2004 e ci ritroviamo nel 2019. Io con qualche cappello bianco e con molta più esperienza e soprattutto col piacere di lavorare assieme in un contesto che ci permetterà di collaborare e di lavorare con un grande spirito sinergico tra di noi. Tutto questo ovviamente per poter lavorare sodo in modo concreto per raggiungere un po' i nostri obiettivi che sono ovviamente, adesso festeggiamo i 25 anni consecutivi in Serie A il nostro desiderio è farne 26 ma coltivando dei sogni coltivando delle emozioni e compattendo l'ambiente tutto l'ambiente sportivo che ci circonda. Possiamo dire direttore che la scelta della dirigenza e della società della famiglia Pozzo di affidarsi a un profilo di esperienza come Pierpaolo Marino è dispessore e un'altra garanzia sulla volontà di crescita costante che c'è per questo progetto sportivo e non solo. Sì, assolutamente sì, evidentemente che la famiglia Pozzo nel momento in cui ha scelto la figura di riportare la figura di Pierpaolo Marino qui a Udine ha voluto dare un ulteriore segnale all'ambiente di grande interesse, di grande volontà a fare le cose per bene qui a Udine come sono state fatte per tanti e tanti anni. Ribadisco e lo dirò fino alla noia 25 anni consecutivi in Serie A sono un risultato importante per un club che ha le dimensioni di Udine e adesso ci sono tutte le basi con Pierpaolo per poter lavorare bene e crescere gradualmente. Queste dunque le parole di Franco Collavino andiamo a dare un'occhiata anche alla Gazzettino che racconta così pronto ad aprire un ciclo Marino ieri è tornato nella casa bianconera ho accettato perché conosco i piani dei Pozzo la squadra buoni elementi come Lasagna ma dovrà segnare di più per scalare la classifica il Pierpaolo Ter è stato salutato dai tifosi e da Bertotto e poi sull'allenatore il passaggio di Marino Igor Tudor è il doppio salvatore della patria e rappresenta la continuità del progetto non vedo l'ora di parlargli. Di nuovo in esterna ora facciamo un salto in piazza 20 Settembre si è spostata lì la nostra Monica Nardini per raggiungere e incrociare due Vespisti uno in particolare pronto ad una nuova avventura a te Monica Esattamente una nuova avventura sulle due ruote sono in compagnia di Denis Ciani un Vespista friulano che insieme a un altro amico e appassionato Vespista e di Fadelli domani parterà ben l'Islanda come mai ricordiamo questo viaggio voi avete già conquistato per così dire Caponor delle Isole Canarie Esatto noi ci siamo messi in testa di fare un'avventura, un'impresa non so come si può dire quattro punti cardinali dell'Europa siccome siamo europei in Vespa stessa Vespa e stesso periodo Quindi partirete domani da Pradamano arriverete ai primi di luglio ritornerete a San Daniele del Friuli che percorso prevedete? Noi andiamo su per l'Austria, Germania andiamo in Danimarca li prendiamo la barca andiamo su facciamo una piccola sosta alle Faroay giriamo per una settimana all'Islanda speriamo di vederla tutta dopo stiamo due giorni alle Faroay dopo torniamo giù andiamo per i Paesi Bassi ad Amsterdam e dopo tiriamo giù dritto per San Daniele Una grandissima avventura sono circa 9.000 i chilometri stimati complessivi in tutto sono 9.800 completo di barca quest'anno di Vespa ne abbiamo pochi ne abbiamo 8.000 7.000 e qualcosa Vediamo un modello simile a quello con cui partirà non è lo stesso perché insomma è bloccato a casa è stato caricato con tutto il necessario quello è carico e non si muove fino a domani mattina Qual è l'emozione? Che cosa si aspetta di più da questo viaggio? vedere un Paese che tutti me l'hanno descritto come fantastico essere sulla Luna essere vedere cose che non esistono il Sindaco mi ha detto mettimi la bandiera in un posto bello io pensavo a una balena ma non so se riesce a stare ferma la balena vediamo o a un geyser o non lo so comunque insomma è un bello obiettivo è un bello obiettivo un bello obiettivo ricordiamo che la vostra avventura si potrà seguire attraverso i social network si social network su facebook e su il nostro blog Cavaliere in Vespa bene allora le auguriamo buonissimi preparativi in queste ultime ore prima della partenza lei all'altro nostro corregionale io adesso però mi rivolgo anche ad Alessandro Cesare che è vicepresidente del Vespa Club Udine per sapere un po' quanti sono gli appassionati e gli iscritti nel club e se ci sono altre iniziative a breve nel territorio sì buongiorno a tutti come soci abbiamo più o meno 250 soci appassionati che utilizzano le Vespa magari solo per la gita della domenica oppure come come Dennis che magari sono un pochino più avventurosi e provano ad andare anche all'estero e a fare viaggi un pochino più lunghi impegnativi come eventi dopo il nostro raduno nazionale a fine aprile adesso ne avremo due a luglio il 12 luglio un raduno in notturna a Zuliano quindi Pozzuolo del Friuli e poi il 20 luglio un raduno dei tre passi a Coccao di Tarvisio raduno Vespa si chiama raduno del maiale e attraverseremo Austria, Slovenia e Italia appunto attraversando i tre passi Versic, Wurzenpass e Predil ma qual è la magia di questi viaggi in Vespa perché affascina così tanto? perché è un ritmo slow come si usa dire adesso un turismo slow quindi si viaggia guardando quello che ti circonda insomma non c'è l'alta velocità te la prendi con calma con tranquillità ed è bello proprio per questo bene allora buon viaggio a tutti buon divertimento a chi compierà migliaia di chilometri a chi qualche centinaio insomma a voi la linea grazie grazie Monica a te e te i ospiti torniamo sui quotidiani lasciamo l'Udinese e parliamo di Pordenone sempre dalle pagine del Gazzettino il testimone ora passa alla burocrazia entro il 24 giugno infatti bisogna presentare la domanda di iscrizione al campionato cadetto il 14 giugno scade nei termini della campagna di finanziamento fino a 1.145.000 euro stiamo parlando del crowdfunding verso l'iscrizione dunque la Pordenone dopo aver conquistato sul campo la serie B per quanto riguarda invece le squadre le prossime avversarie della Pordenone non è scontato scrive il Gazzettino che ce la facciano i responsabili del Palermo del Chievo fresco di retrocessione dalla serie A e poi ancora per quanto riguarda le altre squadre andiamo a recuperare la parte del passaggio si parlava anche della Juve Stavia promossa dalla C sulle difficoltà di queste società conta il Venezia dopo per riguardare la serie B dopo aver perso i play-out contro la Salernitana che ha condannato Leone di San Marco a ritorno in C vedremo dunque che cosa succederà per quanto riguarda la composizione completa e definitiva della serie B ci sono i primi due colpi invece sul fronte mercato per i Ramarri per quanto riguarda i centrocampisti arrivano Pobega e Mazzocco saranno ufficializzati i primi giorni di luglio colloqui con la Juventus si cerca di rinnovare il prestito del difensore Vogliacco e poi si parla anche dello stadio alla Dacia Arena gli Ultras saranno posizionati nei distinti manca ancora l'ufficialità che arriverà solo quando la società darà il via al campagna abbonamenti ma la decisione sembra essere stata presa gli Ultras neroverdi saranno ospitati nei distinti come accadeva al Bottecchia quindi niente curva in senso stretto la decisione di sistemare la curva neroverdi di fronte al grande arco della Dacia Arena cioè nei distinti centrali o laterali permetterà appunto di ottenere un effetto visivo migliore apprezzabile da chi guarda la partita anche in televisione torniamo anche sulle pagine del Messaggero Veneto per parlare di basket perché la Pugsa continua a mettere i ferri in acqua per la prossima stagione vediamo se riusciamo con il nostro touch a recuperare le pagine dedicate proprio al basket niente da fare allora proviamo a continuare con uno sguardo al piccolo in attesa di collegarci con l'Osmer Arpa per le previsioni del tempo nelle pagine sportive del piccolo abbiamo il basket di Serie A con Fernandez il play bianco-rosso per tre anni restare a Trieste tutto quello che volevo questo il titolo di apertura con coach Dal Masson che dice prolunghiamo il contratto che ha dimostrato cuore attaccamento alla maglia in due stagioni ancora dalle pagine sportive del piccolo Lambrughi primo tassello oggi tocca a Pavanel si parla della nuova stagione della Triestina il difensore firma per altri due anni l'amministratore unico milanese incontrerà il tecnico Veneto che ha diverse offerte abbiamo visto poi per quanto riguarda la nazionale femminile che questo pomeriggio alle 18 ci sarà la seconda sfida per le azzurre della CT Bertolini che affronteranno la Giamaica il nostro obiettivo è passare il turno ha detto l'allenatrice mentre l'Under 20 è a caccia del bronzo l'appuntamento stasera contro l'Equador per conquistare il terzo posto ai mondiali Under 20 andiamo ancora per quanto riguarda lo sport a vedere se riusciamo a recuperare alcune delle pagine interne del messaggero per affrontare avevamo anticipato anche il tema basket c'è qualche problema con il touch e quindi andremo tra pochissimo a ripristinare le pagine nel frattempo diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico un aggiornamento per quanto riguarda il traffico lungo l'autostrada della nostra regione sul fronte della viabilità vi abbiamo mostrato prima che al momento la giornata era partita al meglio senza grosse criticità lungo la A4 e anche in questo caso la situazione pare rimanere tale vedete nella tratta compresa tra Palmanova e La Tisana non sono segnalati core e rallentamenti per quanto riguarda proprio il traffico in autostrada ricordiamo però che la situazione potrebbe complicarsi nel corso della giornata per i traffici turistici del fine settimana e i mezzi commerciali tra l'altro Autovia ha informato che ci sarà una chiusura del tratto autostradale per quanto riguarda lo snodo di Porto Gruaro per alcuni lavori dedicati alla terza corsia in attesa di collegarci con l'Osmer Arpa vedo di nuovo pronta forse Monica Nardini che si è spostata ora in Piazza Libertà perché c'è un'altra partenza dai Vespisti agli Alpini Monica Esattamente ci siamo ci sono tantissimi Alpini pronti da partire da qua da Piazza Libertà alla volta del raduno del Triveneto ospitato come sappiamo a Tolmezzo sono in compagnia di Lucio Favero che è capogruppo e consigliere della sezione degli Alpini Udine Centro e dunque ci siamo state per partire quanti siete? Buongiorno ci siamo per partire siamo una quarantina di soliti gruppi otto gruppi della zona di Udine che noi facciamo abitudinamente queste cose quindi abbiamo fatto tre viso in quattro giorni abbiamo fatto Porto Nono in due abbiamo fatto Corizio in due e adesso andiamo a Tolmezzo in due giorni quindi insomma una bella emozione anche per questo raduno ancora più fantastica fantastica emozione quindi siamo pronti preparati e speriamo che vada tutto bene accanto a me c'è anche Andrea Rizzi capogruppo dei Rizzi dunque anche lei come sta vivendo questa giornata e come si approccia a questo weekend? si approccia a un weekend caldo speriamo bene una bella camminata in tre giorni speriamo divertimento arrivare a Tolmezzo e finire con la sfilata di Tolmezzo grande attesa anche per la sfilata di domenica sarà l'evento clou con oltre 30.000 persone 35.000 si ci aspettano nei vari punti a Branco ai Rizzi facciamo la bandiera alle 9.30 Branco abbiamo andiamo a trovare i ragazzi autistici a Feletto gruppo del sezione autismo lì di Feletto Branco tricesimo Tarcento e Bileria per questo giorno domani ci sentiamo intanto si conclude questo giorno va bene buona partenza allora buon raduno a tutti voi buona giornata vediamo anche un saluto alla redazione di Udnews TV buona partenza salutiamo dai dai Udnews 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 meglio di questo saluto Davide come si poteva a voi perfetto grazie grazie a nostra Monica Nardini che ci ha mostrato anche live la partenza degli alpini verso la dunata del Triveneto che si terrà a Tolmezzo a partire da oggi fino a domenica e saremo proprio nel capoluogo carnico nel pomeriggio con le nostre esterne per raccontarvi anche il clima che si respira nella città nel capoluogo della Carnia per questo grande evento che davvero porterà tantissime persone ora siamo pronti invece ad ascoltare le previsioni del tempo e diamo il buongiorno a Livio Stefanuto della Smerarpa Sì buongiorno buongiorno a tutti direi che partiamo bene questa mattina il cielo è ovunque sereno sulla nostra regione è rimasto sereno anche durante la notte quindi anche le temperature minime questa mattina sono scese un po' di più rispetto ai giorni scorsi abbiamo valori attorno ai 14-15 gradi le minime della notte in pienura naturalmente adesso il sole è già sosto da qualche ora quindi le temperature si stanno rialzando durante la giornata di oggi il tempo rimarrà bello sereno tutto il giorno soltanto leggermente disturbato dal passaggio di qualche leggerissima velatura ad alta quota ma dura di importante temperature massime ancora con valore simile a quelle di ieri quindi massime in pianura attorno ai 32-33 gradi attorno ai 29-30 sulla costa e anche in montagna nella prossima notte ci sarà probabilmente un passaggio di nuvolosità sulla nostra regione nubi che forse residue si vedranno alle primissime ore di domani mattina poi domani in giornata di nuovo cielo sereno bel tempo forse di nuovo qualche leggera velatura ad alta quota sarà un po' più caldo domani temperature massime in rialzo ovunque fino a 32 gradi sulla costa fino a 35 in pianura ma temperature attorno ai 30 gradi anche nei fondovalle alpini e prealpini temperature in rialzo anche in quota attorno ai 1500-2000 metri di quota temperature decisamente estive sopra la media domenica direi ancora bello su pianura e costa ce lo cremerà prevalentemente sereno o più leggerissimamente velato in montagna bello al mattino poi forse un po' di instabilità nel pomeriggio quindi la possibilità di qualche locale isolato ovescio temporalesco farà ancora caldo la giornata sarà ancora calda comincerà a essere anche un po' più affrosa con valori massimi ancora attorno ai 34-25 gradi in pianura attorno ai 31 sulla costa sulla costa sofferà sempre brezza un po' più debole oggi e un po' più rinforzata domani e dopodomani è tutto buon fine settimana grazie buon fine settimana anche Alivio Stefanotto a tutti i previsori dell'Osmer Arpa con queste notizie positive andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa sportiva vi eravamo debitori delle pagine dedicate al basket con la nuova GSA che parte dalla regia Penna ha firmato un biennale in attesa dell'arrivo di Amato ecco la conferma del play pupillo di coach Ramagli Pedone Lollo è un ragazzo che ha dimostrato impegno e attaccamento per l'ex Virtus 34 gettoni nella scorsa stagione con una media a partita di 4,61 punti e 2,88 per quanto riguarda gli assist parliamo anche di ciclismo con Elena Cecchini che si è fratturata purtroppo il polso il Giro d'Italia ora a rischio lotta contro il tempo per la ciclista di Mereto di Tomba per essere al via della gara che lo ricordiamo vedrà proprio l'arrivo finale a Udine in Castello dopo la caduta in Gran Bretagna è in attesa di un intervento chirurgico ci fermiamo qui vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata su The News TV l'informazione che ritorna live alle 11 alle 12 alle 15 alle 17 alle 19 alle 22.30 in prima serata invece questa sera una nuova puntata di studenti eccellenti con Alberto Terasso si parlerà dell'istituto superiore il tagliamento di Spilimbergo dalle ore 21 per congedarci invece come al solito accade oggi con Guido Gomirato buona giornata a tutti il 14 giugno 1961 l'Udinese è di scena a Bologna per affrontare il Bari in uno spareggio a tre squadre per rimanere nella massima categoria l'altra formazione in lotta per non cadere nel baratro è il Lecco l'Udinese affronta il Bari finisce 0-0 dopo una gara maschia ricca di capovolgimenti di fronte anche di emozioni e il portiere dell'Udinese Dinelli è stato grande protagonista ma non è che l'Udinese sia rimasta sempre passiva sovente si è resa pericolosa con ripartenze ben orchestrate per cui alla fine lo 0-0 è risultato equo poi l'Udinese nel secondo incontro il 18 di giugno pareggerà ancora con il Lecco 3-3 pareggio che consentirà ai friulani di rimanere in A come del resto il Lecco l'allenatore Luigi Bonizzoni contro il Bari ha mandato in campo la seguente formazione Dinelli Del Bene e Valenti Sassi Tagliavini e Giacomini Pentrelli Segato Bettini Mereghetti e Canella Dec quarter ma beggondi e Grazie a tutti.